Francesca Oliverio, da dove vieni? Da Roma, ho vinto la categoria meno 60 junior. Sono 4 anni che faccio questo sport e questo è il primo anno junior. Come ti sei avvicinata alla kickboxing? Perché la famiglia faceva kickboxing e quindi ho iniziato anch'io, per passione. La tua specialità qual è invece? Faccio light contact e kick light. Riccione cosa rappresenta per te questo successo? Non me l'aspettavo, sono veramente felice. Ringrazio tutta la famiglia e tutte le persone che mi sono state accanto. I tuoi obiettivi quali sono invece? Adesso di entrare in nazionale e poi comunque di vincere l'Europa. A Roma studi che cosa? Faccio liceo scientifico sportivo.